ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi è pasquetta e andremo a vedere qualcosa l'antica monterano città fantasma città abbandonata nel medioevo abbiamo anche un cane oggi per raggiungere l'antica monterano bisogna fare un simpatico tratturo di circa un chilometro e mezzo due chilometri speriamo ne valga la pena un po di gradini eccomi ma che c'è il mcdonald porta critella un po di gradi Wow, guarda che fresco qua, questo è un strontale, cos'è il bagno? Beh diciamo che non è stata una grandissima idea venire qui a Pasquetta perché c'è un fottio di gente, però il posto merita, diciamo che ci si possono passare tranquillamente due o tre orette, se trovi un pezzo d'ombra magari anche di più, va bene. Grazie. 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 Grazie.